Ivern vediamo quando giocarlo magari con la nuova z challenge appunto io sono ormai lo streamer delle a z challenge faccio solo quelle Perché perché così almeno un modo una scusa per giocare tutti i campioni perché sennò Tutti mi chiedono tutti i campioni non so come fare allora faccio faccio le a z challenge Lo streamer che gioca tutti i campioni facciamo qualsiasi format prossima sarà la zero morti poi faremo tutti in jungle tutti in support poi magari anche gli altri ruoli Poi facciamo una con i troll pic e tante altre cose comunque allora adesso facciamo una combo molto divertente Adesso non andiamo in bot anche se siamo bot allora voi leona allora facciamo che in leona anzi facciamo andare prima lui fammi vedere un attimo che pic Ma lui prende Cosa no non lo spazzo perché mi viene a me Crazy Veloce sto cliccando velocissimo Ho cliccato talmente veloce che ho fatto tremare la videocamera Sì la webcam Sembrava un effetto speciale invece era era fisico E' un effetto fisico Ora il jungle è rimasto senza così però in realtà siamo troppo a di siamo una merda Cazzo potevo prendere kindred vabbè va bene è lo stesso Devo un ass Potresti avere lo smite Giusto che sia lo smite Tu prenderai l'oggetto da support ma quale quello dei minion però il mio non li andiamo a fare Mi sa che devi comprendere l'altro Prenderò l'altro No problemo no problemo Bene 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 ora facciamo una tattica stupida Vediamo se funziona dobbiamo Invadere la loro giungla tutto il tempo Ogni tanto andremo bot fare una capatina anche un'altra lane Principalmente invadiamo mister marco Vedo due smaitini poi leggo il titolo a e capisco sì marco il cugino ha una mano velocissima giusto Ha detto giusto in lontananza non se si è sentito Oggi ho visto tutto il video di Kane mi ha fatto venire voglia di sostituire masteria hai visto arpino Ti è piaciuto la movie era un esperimento questo video perché era un video che conteneva tre video infatti durava un'ora Erano tre partite di Kane blu e non so se vi è piaciuto Vediamo un po' in nove ore dieci ore quanta video visual ha fatto dai novecento visual sta quello di kindred ieri è piaciuto molto di più 30 stack Vabbè record di stack con kindred avevo più il range delle torri Quindi potentissima Il mio record assoluto di stack Ma quanti bei record stasera anche proprio i mille stack nasus Beh quello non è un record però un bel nasus con mille stack non può mai mancare Una pentakill col calista full letality che shotta con due spell non potevo sbloccare le altre due la W la R Pentakill con Gwen 1v5 full AP Le trappoline del one shot max avevo le trappole e one shot avevo le gente di trappole con la E di Gin Galio full APS team sniper team Avengers team degli attacchi dei giganti mamma mia ragazzi Quanto bel content su youtube in questi giorni pasqua proprio è stato un evento pasquale Quello che ti fa danno quello lì sì mi sa di quello lì è meglio Allora Andiamo a invadere Anzi andiamo Quindi andiamo qua Andiamo top Oppure possiamo fare i loro piccioni Non so Perché comunque Kane è veloce a fare i piccioni Andiamo andiamo qua Copriamo Ora focus ragazzi perché qui non sappiamo che cazzo stiamo facendo e dobbiamo scoprire E' una potenza riesco a carriere le partite anche se sono un sport cugino risata Ma cosa fa Pantheon? E' pazza Vabbè mi segue ho guadagnato un pet Ciao Ice Clown Ah visto che non ce l'hai Non l'hai comprata Ah invece si Certo che ce l'ha Certo sono jungler Praticamente noi abbiamo due jungler I nemici non lo sanno No loro hanno due jungler Nessuno ha pullato il nostro jungler ma abbiamo pullato la botlane Poverino Poverino Questo si zed là Oh questo me lo voleva rubare che succede? Eh vai facciamo questo Allora Ma non prende troppo danno che Ah cazzo ho già guardato quello Cazzo Vabbè non ti preoccupare Sì non dovevi farlo ma Ma niente Allora Dobbiamo aggancare No la top no perché ho guardato Andiamo mid Però in realtà dovremmo prendere il jungler nemico Che tra poco arriva qua Quindi Stai qui dentro te? Così mi dai vision Ciao cugino E sono sei mesi che continuo a farti l'abbonamento Pur guardando che al momento solo su youtube Perché lavoro fino a tardi Ti ringrazio Ma dove cazzo è Io non lo so Oh eccola eccola qua Vieni 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 Guarda тут L'unorevo legato è presenti stasera Eh Vabbè Sei facile Secondo me devi startare con la Con la E Sì Quasi Eri dietro? Flash e Q Ancora Eh se mi si è avuto lei Benissimo Adesso Andiamo un po' bot perché abbiamo lasciato troppo Sì Zed è che è andato a bot ed è morto Ok starta con le scarpe Quelle che ti danno velocità di movimento Le mobility Sì se non le hai non importa Bene 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 ragazzi dopo vi ringrazio tutti Leggo la chat scusate se non lo farò Mi metto un segnalino Così dopo leggo tutto Qui c'è stato un sacco di spam E quindi non ho perso un sacco di cose Però Adesso focus su questa cosa pazza Mi ha marchiato Sì fa Mi sta arrabbiata Per forza sono a lui Passiamo le ombre E si adesso tanto qua facciamo subito tanta exp Perché per forza facciamo Facciamo livello 3 Poi torniamo a fare un po' di casino Un'altra cosa che si poteva fare era prendere pike support Quello anche non era male Perché con pike puoi passare più muri Sei un po' più agile Allora sono molto poccanti Poi chatrina al blu quindi Ripressionato tutto il mana purtroppo Un nemico è stato ucciso E questo non è bene Però vabbè Non andarci su di loro Perché sono dei livelli sopra di noi Ok comunque vedo che è già il 2 Quindi perfetto Noi la bot lane la dobbiamo Dobbiamo attaccare solo gankando Praticamente È un passato troppo tempo bot Secondo me Lo vediamo A posto a posto Tempo mid adesso che fai un po' di expo da quei minion Buono Bene brava stai facendo expo Ma perché quella Ok ok adesso proviamo a gankare bot Anche se sono i livelli più alti di noi Ma poi perché è un po' Eh perché non stiamo in bot Aspetta aspetta Eh si lascia stare Resta lì Torna lì Vediamo cosa fanno Mi sa che non si avvicinano più Ok Invece sì Ti hanno vista Vai 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 arriva Va bene va bene va bene Abbiamo fatto tanto danno Ho preso anche molte stack Adesso lo rifacciamo Andiamo a vedere se c'è kindred perché sono Oh Mi spavento Ok vediamo se si mi trasformo Sono abbastanza queste stack No Vai 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 Ok Questa adesso per forza No Dai Dimmi che sono abbastanza Dai non ci credo No porca troia Vado 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 Però io non ho mana Non fa niente Solo fare le stack Quella dovrebbe essere abbastanza Una stack proprio mi serviva Infatti Oh muoio? No Ok ok Vabbè sono morto Va bene va bene Però ho fatto il carretto Worth direi Bene 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 Andiamo Andiamo nella loro giungla Sì C'è il marchio di kindred su questo Quindi presumo che Ma chi l'ha preso i 5 gold? Io Ma come? Io ho pingato il secondo parlamento a te Ok 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 Il redd l'ha preso Ok ok Non facciamoci vedere E facciamo un po' la loro giungla adesso Vai qua a te Il redd no vero? Cioè Il redd no no Ok 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 Allora andiamo nel loro giungla Il redd è mid Sì 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 Ganchiamo mid E andiamo Ok ok Andiamo nella zona top In redd è di qua Tu passa Ok vieni con me Ok niente è sopra Andiamo Molto bene molto bene Dov'è kindred? Sì sì Lo so però Dobbiamo uccidere kindred Che probabilmente È appena passato di qua Lo stanno facendo Stanno facendo il marchio Il marchio Stanno facendo il marchio Che gente Fai un culo a pantheon Aveva già tre kill Bastarda Sì veramente Va bene Va bene lo stesso Perché se faccio più kill A me non riesco a dare più presenza in map Perché è una crowd Vado un attimo mid Perché mi più di exp Sì sì tu fai un po' di exp in mid Vai Anche mi mica ha cominciato a spammare King blue Ma l'hanno baffato No è stronzo Non c'è nessuna ragione Per cui sto giocando King blue Stavo cercando solo Un jungler veloce Nel muoversi Nella mappa Per fare questa cosa Bot what the fuck Please report bot Allora Proviamo a fare un'altra cosa Adesso ganchiamo bot Vieni vieni Ti aspetto Non ha malalux Non cazzo E' un onore Essere un tuo cugino Tu un alleato E' stato ucciso Eh no Eh no Così esageriamo Qui ci sicuramente Bisogna trovare Un'altra combinazione Di champion Che magari Riesce a fare Anche questa cosa Dovremmo Sperimentare un po' Per capire Quale può essere Una combinazione Buona E comunque Kane E' veloce Può passare Tanti muri Quindi riesce a muoversi Facilmente nella giungla Pyke sicuramente E' un buon Accompagnatore In casa Vai vai Buono Anche Leona Comunque Immobility Un fastidio E jungle emico 0-4 Bene 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 Allora ci sono Ok E non si può combattere Oh questa Ma dove va? Perché non usa? Eh perché mi uccideva Dovevo premere Però pensavo di ucciderla prima In questo modo Noi abbiamo 14 kill a 5 La loro bot Non vince Perché la bot Cosa fa? La bot dopo che ha fatto la torre Non si va più Non si sa per quale motivo La bot Sta fissa in mid Infatti come vedete Adesso per noi è più facile giocare Stavamo solo aspettando Che risuggessero la torre E adesso Sono tutti quanti Pappa per i nostri denti Non si sa come mai Funziona questa cosa Adesso loro sono in tre In una lane A dividersi l'exp Come vedi i sceni Ok Kindred è là Vuole andare al mar Sì 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 Però Quella mid lì Vieni vieni Perché è andato ad abusare Dopo continuiamo ad abusare Ma si vuole essere portata Andiamo 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 Kindred sicuramente è pronta Oh no Guarda dov'è È top Chi si riporta Ma infatti Please don't come to my lane Scrive Pantheon Ma cosa C'era la Ma se L'abbiamo fiddato È 4-0 solo per noi Ma poi abbiamo C'era la nostra bot lane Lì diciamo Di only KS Va bene Sì Oh gara top Poverino Povero cucciolo Sta morendo di fame È 4-0 Non ho vita Non ho vita Non ho paura di morire Cazzo Io non ho paura di morire No Devi avere paura di morire Va bene 4-0-3 Gliene avete rubato Al massimo È stato lui rubarcene una Quando ci ha ucciso Kindred Che l'avevamo lasciata Con 1 di vita È arrivato lui Attacco base Poi adesso siamo arrivati Ad aiutarlo a difendere Che mi ha pure pingato Quando ha fatto la ulti Ha fatto la ulti lui Non so se hai visto Mi ha pingato Ha detto Sto ingaggiando E l'ho Continuato scrivendo Cioè Facendo il ping anch'io No Per dire ok ci sono Ti seguo Abbiamo fatto le kill Non venite più nella melee Sì Cosa È successo Non so Non sono Ciao Stefano Buonasera Faresti un paio che Alistar tattico Nel prossimo game Boh va bene Pensiamo Che combo potremmo fare dopo Tanto in questa partita Non siamo stati in bot No Io non so nemmeno Come sia fatta quella lane Abbiamo il triplo Delle loro kill Nonostante tutto Ma perché vogliono sorrendare Ma perché vogliono sorrendare Sto vincendo Ma la gente cosa fa Ma che cazzo fa Zed La cosa bella è che sto facendo Anche i campi Della nostra giungla Perché lui non li sta facendo Neanche a dire Glieli sto rubando Però non li Sto rubando a Expo Però Tutto sì Questo non mi interessa Lui interessa Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Vai su Lux Vado Bene 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 Dovrebbe esserci Kindred qua Oh Invece c'è del drago Del drago Eh no Voleva il mio culetto Oh Perse che Kindred Sei a carta Che poca vita Eh Stavo preparando La one shot Oh C'è un nemico Con poca vita Non ci sono più Piscio Addio addirittura Artino Ti sei Pisci Sì sì Questa è stata Bella Jumpscare O i nemici Surrendano Oh 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 Forse erano loro Che erano tiltati Perché non capivano Cosa stesse succedendo Quanto i nostri Compagni Vabbè Ma chi è che mi ha ammalato Il surrende Dei nostri Panto Eh Zed Ah Eh ci credo Zed Poverino Zed ma Era stupido Era tiltato Perché Non si sa il perché Perché noi La sua giungla Alla fine Non la stavamo Toccando più di tanto Ok Non stavamo bot Però abbiamo vinto Tutte le altre lane Sì Cioè Lui era tiltato Perché era sotto pressione Perché era un jungler Che stava perdendo una lane Perché nessuno gioia Quindi Oddio cazzo Non so cosa fare E infatti Non sapendo cosa fare Ha fatto schifo Come il jungler nemico Ovviamente Eh io ho fatto Più danni C'erano degli invasori Abbiamo Abbiamo dato fastidio A tutti i jungler Della partita Anche al nostro Mamma raga È stato devastante Cioè Questa qua È per forza Che la sorrendono Perché gli amici Non sanno cosa succede Ma questa Perché l'ho fatto Perché ho fatto Questa partita Era un esperimento Perché Quando ho giocato Kane Nella prima partita Non so se vi ricordate Qua appunto Nella Video che è uscito oggi Io stavo giocando Kane jungle E avevo contro Proprio questa cosa Avevo contro Dei tizi Che stavano facendo Questa cosa Leona Guardate Leona Con Appunto Questo oggettino Aveva il tp E l'electrocut E stava facendo il mobility Aveva uno shako Con lo smite Vedete Doppio smite E non stavano mai bot E questa cosa qua Ha fatto impazzire Talmente tanto la mia squadra Non me Perché io volevo giocare La dicevo Questa la vinciamo al 100% Per quanto due che fanno questa cosa Noi abbiamo una lane in più che farma Loro no Infatti I nemici erano in vantaggio Ma non lo sapevano E stessa cosa è successo qua Cioè è proprio una cosa mentale e psicologica Perché quando uno vede che sta perdendo così tanto su tutte le lane Non sta a pensare Eh però loro stanno trollando E quindi anche se sono un po' in vantaggio adesso Poi in late perdono Perché la gente Pensa soltanto al qui Cioè pensa soltanto al Al breve tempo No Non pensa sul lungo termine La gente non è abituata a pensare sul lungo termine Questa è la cosa più sbagliata del mondo Tutti la sbagliano Nessuno pensa sul lungo termine Tutti sul breve termine Cazzo stiamo perdendo adesso Sorrendiamo Andiamo alla prossima No avete un team che è più forte Perché loro stanno trollando Hanno due persone che non farmano Che stanno in giro in giungla Quindi ci potevano tranquillamente vincere Ok E invece Invece hanno sorrendato come degli idioti Perché Si sono spaventati Avevano contro qualcosa Che non capivano cos'era Quando tu non capisci che cos'è una cosa Cioè Succede questo Alla prossima